ti vuole pazienza quando il marito si infila nel bagno per fare bisogni importanti e si porta un giornale il tablet il cellulare la playstation la switch o la gazzetta dello sport si porta tutte cose porto il computer la chitarra si fa un traslogo per andare in bagno forse ci dorme pure ma vedi qui da la porta ho lasciato da ridere care mogli che vi lamentate perché i mariti quando si fanno il bagno la doccia usano il vostro balsamo alle erbe tibetane pisciate sapete che ogni boccettina costa 80 euro e vostro marito lo usa tipo detersivo per i piatti mi capisco abbiate pazienza fatelo lavare in giardino guapompa